Buon pomeriggio a tutti e benvenuti qui sul mio canale, bentornati, se ancora non l'aveste fatto vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Prima di iniziare con il contenuto di oggi ci tengo veramente a ringraziare ognuno di voi per la quota di iscritti che ha raggiunto questo canale, quota 2000, veramente grazie per il vostro supporto giornaliero e grazie veramente per tutte le interazioni che non fate mai mancare a questo canale e niente insomma quindi è veramente un traguardo importante e il merito è veramente vostro che non perdete mai occasione di farmi sentire il vostro apporto e supporto. Quindi grazie veramente. Cominciamo ora con il video di oggi e il tema è ATP 1000 di Montreal. Il programma è veramente di quelli fittissimi perché oggi si giocheranno un sacco di partite, si comincia dalle ore 17, tre partite ancora del secondo turno. Pensate un po', siamo a sabato, la finale si terrà lunedì e ancora si deve concludere il secondo turno. Le partite sono ben tre, un azzurro anche impegnato come già ben saprete, Kobolli contro l'Internet, partita sospesa nel primo set sul 3-0 per il francese, poi abbiamo Ibi Urkrac contrapposto a Kokinakis e Corda contro Frizz per il derby statunitense. Ma oltre a queste tre partite c'è tutto il programma degli ottavi e quindi abbiamo un Nakashima contro Rublev, un Borges contro Nishikori, Davidovic pochigna contro Arnaldi, Yannick Sinner contro Leandro Tabilo, Grigor Dimitrov contro Popirin e Rune contro Zverev. In più si formeranno gli ottavi, c'è un Rudder che aspetta il proprio avversario e poi tra Kobolli, Rindernet, Kokinaki, Urkrac e Corda Frizz si formeranno gli altri ottavi. Quindi un sacco di partite e per non farci mancare niente, in conclusione, in serata si giocheranno anche due quarti di finale, quelli del lato di Yannick Sinner, parte alta del tabellone. Quindi sapremo che molto probabilmente se Yannick Sinner dovesse avere la meglio contro il Cileno Tablo, successivamente dovrà giocare contro Rublev o contro Brandon Nakashima. Quindi un doppio appuntamento da non perdere. Qui sul canale ci sarà la diretta del match di Sinner contro Tablo, intorno alle ore 19 circa, perché si parte dalle 17, il secondo match in programma sul centrale, il primo appunto quello tra Ibi Urkrac e Kokinakis. Una volta che sarà terminato questo scontro ci sarà Yannick Sinner, quindi diamo due ore di match circa, quindi si inizia intorno alle 17, 17 e un quarto. Credo che intorno alle 19, al massimo 19 e 30, Sinner scendere in campo. Ipotizziamo due ore di match? Quarto d'ora più, quarto d'ora meno? O anche un'ora e mezza? Comunque si andrebbe intorno alle ore 21 e successivamente tutti saranno chiamati a un grande sforzo, perché dovranno giocare un'altra partita, chiaramente chi avrà avuto la meglio del proprio avversario. Domani avremo già quindi due semifinalisti su quattro, poi si concluderà domani il programma dei quarti e in più verranno giocate le semifinali, per consegnarci quelli che saranno i due finalisti e che lunedì si contenderanno il trofeo. Un torneo abbastanza tipico, già iniziato abbastanza in ritardo, un torneo che si conclude di lunedì e soprattutto un torneo che causa le condizioni meteorologiche avverse, ha fatto sì che si compattasse tutto e questo va anche un po' a creare una situazione particolare, perché già ci sono state molte sorprese, già questo è un torneo post-olimpiade, quindi già di per sé è un torneo atipico. Se in più ci mettiamo le sospensioni dei match per pioggia, sia nel mentre del secondo turno e sia quando dovevano concludersi i secondi turni e giocarsi gli ottavi di finale, questo fa sì che alcuni dovranno fare due o tre partite ogni giorno e potrebbe anche un po', non dico falsare la competizione perché alla fine questa problematica c'è per tutti, però diciamo che a livello fisico i tennisti che arriveranno in fondo verranno messi a dura prova, quindi anche una prova di nervi e nell'ottica del match di Yannick Sinner di questa sera io sono convinto che Sinner col suo staff abbiano anche pensato a questa evenienza e avranno preparato la partita nell'ottica di, passatemi il termine chiaramente, tra virgolette impiegare il meno tempo possibile contro Tabilo, mi spiego meglio, non è un match dove puoi dire ma sì mi metto a giochicchiare, sono in vantaggio di un break, non forzo, facciamo, oppure magari provo delle variazioni, magari vado a complicarmi la vita, mi faccio breakare, devo recuperare, no, questo match per Sinner essendo che siamo appena agli ottavi di finale da vincere senza se e senza ma, per arrivare al secondo match, quello dei quarti di finale, qualche ora più tardi, ancora con una buona riserva di energie, chiaramente andrà tenuto d'occhio anche il match di Rublev contro Nakashima perché varrà lo stesso discorso per loro, però è molto importante perché arrivare magari spompi o fisicamente in condizioni non al top nella gara dei quarti di finale potrebbe compromettere anzitempo un torneo che, ricordiamo, Sinner ha il dovere di cercare di arrivare più avanti possibile per difendere i mille punti conquistati nella passata stagione, quindi credo che nelle tattiche che adotterà il nostro Jannik per il match contro Tabilo questa questione verrà presa seriamente in considerazione, senza dimenticare che Rublev, eventualmente i quarti, sarebbe un avversario di tutto rispetto, anche Nakashima ci mancherebbe perché poi abbiamo visto le sorprese che ci sono state, però sai, un match contro Rublev, dopo Mari che hai fatto due ore contro Tabilo, magari in giornata di grazia o perché ti sei complicato la vita, magari rischi di compromettere il tuo torneo, senza dimenticare che il giorno dopo c'è anche una semifinale da giocare, semifinale che però a onore del vero, a mio modo di vedere, potrebbe essere più morbida di un eventuale quarto con Rublev, perché questa, intanto questa semifinale, interessa anche un altro azzurro, Matteo Arnaldi, in quanto Arnaldi affronterà Davidovic Fuchinha, vale lo stesso discorso di Sinner, giocherebbe il suo quarto in serata dopo il match che giocherà appunto contro lo Spagnolo, e poi c'è Ken Ishikori contro Borges, faccio un esempio, un Ishikori di turno, vista l'età, vista un po' tutta la carriera che ha fatto, ormai è abbastanza fine corsa, lo vedrai abbastanza in difficoltà a giocare due partite, quindi già questo va a penalizzarlo, magari può battere il portoghese Borges e poi magari si trova un Davidovic o un Arnaldi, per quanto stanchi, per quanto abbiano fatto una partita tirata, credo che sia lo Spagnolo che l'Azzurro, se dovessero avere la meglio l'uno dell'altro, avrebbero abbastanza la strada spianata per la semifinale, ovviamente se dovesse passare Nishikori. Discorso diverso, chiaramente, per Borges che ha un'altra età, un'altra esperienza, e quindi magari potrebbe anche essere una rivelazione, potrebbe arrivare fino alla semifinale. È un torneo interessante, ci auguriamo che il vincitore lo sia meno, nel senso che sia quello dell'anno scorso, ovvero Yannick Sinner, che non ci siano novità, però, ecco, mettiamoci nell'ordine delle idee che, a mio modo di vedere, visto quello che è successo all'inizio, visto quello che sta succedendo con questi, diciamo, spostamenti dei match, quest'oggi potremo vedere delle altre sorprese. Per ora sono state tutte dalla parte alta del tabellone, magari saranno nella parte bassa, anche perché abbiamo uno Zverev Rune che promette spettacolo, comunque c'è un Corda Fritz di tutto rispetto molto interessante, lo stesso Dimitrov Popperi in un match che può riservare delle sorprese, e insomma, staremo a vedere quello che accadrà. Si parte tra poco, ore 17, e poi vi aspetto qui sul canale per la diretta del match di Yannick Sinner contro Alejandro Tabilo. Vi ringrazio di nuovo tutti per essere stati all'ascolto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!